Musica Lunedì 9 novembre, buon inizio di settimana e benvenuti al primo appuntamento con la nostra informazione in regia questa mattina. Donato Mignogna, come ogni lunedì, direttamente la rassegna della stampa dei quotidiani regionali e nazionali. Vedete alle mie spalle il giornale del Molise.it in evidenza l'intervento del magistrato Fabio Papa sulla vicenda che lo riguarda. Il titolo del giornale Molise.it, frattura e la macchina del fango, parla Fabio Papa, contro di me, dice una manovra infame. Approfondiamo questo articolo dunque in relazione ad articoli di stampa comparsi nei giorni recenti relativi a vicende giudiziarie che coinvolgono il sottoscritto, scrive il PM. Fatalmente sintetici, imprecisi e approssimativi, sono letteralmente costretto e comunque desidero rappresentare quanto segue nei limiti in cui mi è concesso, attesa la mia funzione, a tutela della mia onorabilità personale e professionale. Papa scrive che la vicenda che mi viene del tutto involontario protagonista, molto complessa, ha origine nell'iniziativa ormai purtroppo molto consueta di alcuni indagati eccellenti di intervenire, contando sulla propria rete di conoscenze strategiche, mediante innesco della cosiddetta macchina del fango, sul magistrato che deve occuparsi delle loro condotte, strategia è evidentemente più efficace rispetto all'esercizio ordinario del diritto di difesa, specie come nel caso di specie, scrive ancora Papa, quando si è consapevoli che quel magistrato non è in alcun modo addomesticabile secondo le perverse logiche corruttive di potere altrettanto ormai consuete. L'articolo chiaramente, vedete, che continua. Torniamo sulla home del giornale del Molise.it, vediamo qualche altra notizia, c'è la politica, il Movimento 5 Stelle alza la voce, dice l'intero consiglio regionale si dimetta. Poi si parla di scuole, i tribunali di Serni e Larino accolgono i ricorsi dei precari, a Di Serni, a Laboratorio Moda, alla colorazione dei tessuti, opportunità anche per le imprese agricole. E qualche altra notizia ancora, otto domande che inchiodano frattura al muro, se ne è capace risponda, scrive il giornale del Molise.it. I grillini vogliono un sindaco a 5 stelle, qualche altra notizia, Stefano Testa accordi sotto banco, prassi per la classe politica molisana. A Termoli adesso prevenzione in piazza con la giornata mondiale del diabete, e si continua a parlare della Corte d'Appello di Campobasso, l'intervento di Bucceri, che sta con il giudice Di Giacomo. Infine vi segnalo la sezione editoriali dei opinioni, le notizie della regione, dall'Italia e dall'estero. Primo piano Molise apre con l'analoga apertura rispetto al giornale del Molise. Papa rompe il silenzio su di me, macchina del fango. L'ex PM, su cui pende una richiesta di rinvio a giudizio per tentata estorsione ai danni del Presidente della regione, parla di manipolazioni e falsificazioni. È in atto, dice, una gigantesca operazione davvero complottistica e atrocemente calunniosa. Le altre notizie leva a fonda frattura e fanelli. Finora, dice il parlamentare, solo gestione del potere, il PD torni ad essere partito di centrosinistra. A Lisernia, amministrative, c'è l'ipotesi de Bernardo e fra i dem scoppia subito la polemica. Pazzo meteo, parola di esperto, sole, clima estivo, almeno fino alla fine di novembre. E poi lunedì spazio al calcio, grande foto, lupi, punto di ripartenza, Todino salva i rosso-blu. L'era Favo scatta con un pareggio in extremis in casa della Vis Pesaro. Contestazioni dei tifosi, diversi sostenitori hanno lasciato il Benelli in anticipo. Isernia mette in fuga lo spauracchio Chieti. I Pentri ritrovano il bottino pieno dopo. Isernia, dunque, solida e concreta, ritrova la vittoria dopo cinque turni. Agnonese di rimonta al Del Duca, è 3-3, Marolda aggancia il Monticelli. Calcio regionale, frena il Termoli, Tris brucerchiato, equilibrio a Montenero e nuova Cliternia. Dall'Abruzzo invece va stessa KO, la vetta non è più solitaria, San Salvo, ok, Cupello in crisi. Chiudiamo, primo piano, andiamo sul quotidiano del Molise, anche qui in alto. Il PM Papa replica dopo la richiesta di rinvio a giudizio e parla di macchina del fango. Il magistrato rompe il silenzio, manovra infame per garantirsi impunità. La politica, corte d'appello, c'è l'intervento di SEL, sosteniamo la battaglia per la giustizia. A Di Sernia il totosindaco Patriciello è lago della bilancia, scrive il quotidiano. La sua polivalenza partitica gli permette di spaziare a destra e a sinistra. A Campobasso, chiesa imbrattata e quella di San Giorgio, solidarietà a Don Luigi. A Dagnone invece, anziana derubata in casa di 8 mila euro. Anche qui, grande foto, lupi solo pari al novantunesimo. L'Isernia ritrova la vittoria. A Pesaro è 1-1 grazie a Todino. Diversi tifosi rosso-blu, delusi, avevano già lasciato lo stadio. Tanto i pentri stendono il Chieti 2-1. Agnone, punto di orgoglio con il Monticelli. Calcio di eccellenza, il Termoli frena in casa e il vantaggio si riduce. Rocca Ravindola di forza. Nel campionato di promozione, Campodi Pietra e Frentania mantengono il passo della capolista guionesi. Sul telematico futuro Molise, siamo dei Sernia. L'associazione Euridit ha presentato il progetto Laboratorio Moda Molise. La riconversione della filiera del tessile è iniziata. Altre notizie slittate alla prossima settimana. Slittate alla prossima settimana le aperture al traffico della statale 85 Venafrana e della variante sud di Venafro. Chiuse a seguito della frana di località Taverna a Sesto Campano. Qualche altra riunione, qualche altra notizia. Siamo a Dissegna, riunione del coordinamento regionale di Fratelli d'Italia. Di Sandro dice che saremo in prima linea per ricompattare il centro-destra. Sicurezza, aree interne del Molise. I sindaci chiedono un incontro con il questore di Campobasso, Raffaele Pagano. Qui c'è un refuso. Non è Pagano, non è il prefetto di Campobasso. Ancora qualche altra notizia. La politica, il senatore Roberto Rutta, lunedì, oggi, illustrerà gli emendamenti presentati alla legge di stabilità. Sui quotidiani nazionali, in primo piano, l'incontro di ieri a Bologna del centro-destra. A Bologna, la piazza del centro-destra, uniti per farce la titola il Corriere della Sera. Salvini, noi il nuovo. Nessun ritorno al passato. A centro-pagina, il Papa e la condanna dei Corvi. Rubare è reato. Vado avanti, lo ha detto all'Angelus. Francesco rompe il silenzio sull'indagine. Grande foto con Valentino Rossi. Una domenica da Leoni contro la truffa dei tre spagnoli. Poi, chiaramente, vedremo questa notizia sulla Gazzetta dello Sport. Intanto, andiamo su Repubblica, anche qui, l'incontro di Bologna. Salvini e Abberlusconi, il capo, sono io, il piano del PD per Roma e Milano. Lega in piazza a Bologna con Forza Italia e Meloni. Fischi all'ex Cavaliere. Scontri, intanto, tra antagonisti e Polizia. Le altre notizie, siamo sempre su Repubblica. la rimonta il complotto. Furia, Valentino, arriva quarto, ma non basta. Dice, Marquez ha favorito il traguardo di Lorenzo. Chiudiamo la Repubblica per vedere la stampa. Centrodestra, il timone da Berlusconi a Salvini. Arriveremo al 40%. È stato detto, Carroccio, Forza Italia, Fratelli d'Italia, in piazza, in una città blindata. Anche Fischi all'ex Premier. Bologna, dunque, cortei e tafferugli con arresti e feriti. Qualche altra notizia, vedete anche qui la grande foto dedicata a Valentino Rossi. È un biscottone. Si parla anche di elezioni amministrative. Milano si disala disponibile a candidarmi, parla l'ex commissario di Expo. Dalla stampa, adesso, passiamo al Fatto Quotidiano. Salvini a Bologna, botte e flop. Cosa nera, scrive il Fatto. Fischiato in piazza all'ospite Berlusconi. Meloni parla di un polo anti-premier. È in basso. Francesco, chi sono i tuoi nemici? Bergoglio sa chi sta tramando. Adesso serve trasparenza, scrive il Fatto Quotidiano. Passiamo adesso al giornale. Non moriremo. Renziani, centrodestra in piazza. Centomila persone nel cuore rosso di Bologna. alla manifestazione di Lega Forza Italia e Fratelli d'Italia. Il Cavaliere, uniti, vinceremo le prossime elezioni. Salvini, intanto, dice Renzi, a casa. Si parla anche del Papa. Rubare carte è un reato, dice Francesco. Bergoglio denuncia la sottrazione di documenti. Ma io vado avanti, ha aggiunto il Pontefice. Uno sguardo a Libero. Svelo le telefonate di Napolitano. Ingroia confessa e promette. L'ex PM ammette, dice, sulla trattativa Stato-mafia. Sono stato sconfitto, ma scriverò un romanzo per divulgare le intercettazioni dell'ex presidente. Mai stato comunista. Poi sulle procure risponde un muro di gomma. Parola di avvocato. Foto con Salvini e Berlusconi. Bentornato centrodestra, scrive Maurizio Belpietro. E ora la lista unica. Chiudiamo. Anche Libero. Passiamo al messaggero quotidiano della Capitale. Berlusconi lega il nuovo patto. Il cavaliere alla manifestazione di Salvini dice uniti vinceremo con il 40%. Ex premier fischiato. Il leader Lombard aggiunge l'alleanza guidata da noi. Bologna ostaggio degli antagonisti, scontri e arresti. Dunque ecco la sintesi della giornata di ieri a Bologna. Centropagina. Il Papa contro i Corvi. Inchiesta a Vatilix. Presto altri coinvolti. Dal messaggero al tempo. Il centrodestra riparte da Salvini. La sinistra si ferma ai soliti idioti. E si parla di politica e scontri a Bologna. Piazza Stracolma per la manifestazione anti-Renzi. Centri sociali scatenati. Sabotaggio dell'alta velocità. Si parla di ferrovie e attacchi alle forze dell'ordine. Sulla spalla Bergoglio è reato rubare documenti. Il Papa ha sorpresa su Vatilix. Uno sguardo adesso al mattino. Anche qui c'è la politica. Berlusconi lega patto a Bologna. Il Cavaliere insieme vinciamo con il 40%. E sulla spalla il Papa riforme e avanti. Poi di aggiungere rubare carte. È reato questo durante l'Angelus. Dicevamo di Valentino Rossi. Ecco la gazzetta dello sport che titola così. Che biscottone. La rimonta non basta. Rossi attacca Marquez. Dice ha protetto Lorenzo. Meritavo il titolo. Sono stato al comando dalla prima gara. Che pena gli ultimi giri. Orge intanto ammette. Dice mi hanno aiutato. Così il mondiale è rimasto in Spagna. E poi il calcio. Inter e Viola. Testa tosta. Con Gobià segna. Andanovic para. Per Mancini è il settimo. 1-0. La Fiorentina invece è uno show con Ilicic e Kalnic. Bene. La gazzetta dello sport. Come dire. Ci proietta direttamente la nostra redazione sportiva. Con Ilazio. Linea alla regia. Serie di Girone F. Undicesima giornata. Questi i risultati. Amintercina, San Benedettese 1-3. Fano, Fermana 0-0. Folgore, Veregra, San Nicolò 2-0. Giulianova, Avezzano 0-0. Eserne, Acchieti 2-1. Mattelica, Castelfidardo 2-2. Monticelli, Olimpiagnonese 3-3. Recanatese, Iesina 0-3. Vispesaro, Campobasso 1-1. In testa a quota 25 San Benedettese, segue a 21 il San Nicolò. 20 punti per il Matelica, Fano, Folgore, Veregra 18, Avezzano 16, Monticelli, Castelfidardo, Iesina ed Isernia 15, 14 punti per Chieti e Fermana e Campobasso, 11 Recanatese, 10 Amiternina insieme alla Vispesaro, 9 punti per l'Agnone, ultimo a quota 8 il Giulianova. Pareggio deludente per il Campobasso, seconda trasferta consecutiva contro il Pesaro. Il vantaggio dei locali al terzo del secondo tempo da calcio d'angolo tocca terra, sottoporta il tapin di Falomi per l'1-0. Il pareggio del Campobasso arriva nel finale da calcio di punizione di Dimas, uscita a vuoto di Venturi, palla a Todino che chiude il discorso sull'1-1. Al 42esimo si sblocca il risultato direttamente da calcio piazzato, Ruggeri sigla l'1-0. Al 13esimo della ripresa, Manzo per Fontana ed è conservito il 2-0 Bianco Celeste. Al 44esimo accorciano gli ospiti Cosbardella, ma l'Isernia batte il Chieti 2-1. Undicesima giornata del campionato di eccellenza, Cliternina Olimpia Riccia 1-1, Macchia Comprensero Verano 1-1, Pietramonte Corvino, Vasto Girardi 1-5, Real Montenero Gambatese 0-0, Rocca Ravindola Campobasso 1919 3-0, Sesto Campano Catanovo Monterotaro 1-1, Termoli Alife 0-0, Treppini Mattese Venafro 2-1, ha riposato la gioventù Downup. Per una classifica che vede in testa sempre il Termoli a quota 24, segue a 23 il Vasto Girardi, Alife 20, Gioventù Down a 19, a 17, Treppini e Venafro. 16 punti per il Sesto Campano, Gambatesa 15-14, Cialo Riccia, Rocca Ravindola 13, Real Montenero 12 insieme al Macchia, 10 punti per Vairano e Campobasso, 8 Pietramonte Corvino, 6 Cliternina, ultimo a quota 5 il Casanovo Monterotaro. Al 27esimo cross di Grillo per Capaccione che di testa trafigge la rete del Macchia di Sernia. Al terzo minuto del secondo tempo Sisti ristabilisce la parità in campo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Macchia di Sernia, comprensorio Vairano, 1-1. Criternina che va in vantaggio al minuto numero 3, la punizione d'Asce da De Nicola, il colpo di testa di Tiscia, la parata di Genovese, pallone allontanato e riproposto da Tiscia in avanti. La rovesciata nell'area piccola è di Tarantino che cancella il rigore sbagliato nel primo tempo per realizzare il nuovo vantaggio della Criternina. Il pari arriva sette minuti più tardi da questo lunghissimo lancio in profondità di Alessandro Di Criccio che pesca bene Cappelletti, salta a lungo e poi con il piattone sull'uscita di Silvestri va a depositare in rete il gol del pareggio. E' veramente tutto adesso, grazie per averci seguito e vi ricordo che l'informazione torna alle 14 con il Tg, io vi auguro una buona giornata, arrivederci. Grazie per aver guardato il video, grazie per aver guardato il video.